Vorrei sapere se a livello spirituale... Punto F attraverso Francesca F a cura di VB. Domanda Io non so come formulare la domanda. Vorrei sapere se a livello spirituale può esserci un significato all'espressione follia, ad un ragionamento diverso rispetto alla normalità, quella che tutti conoscono come realtà. Guida Il decadimento di un corpo fisico non è ascrivibile al vero decadimento dell'offerta. Quella è la manifestazione di un decadimento dove la percezione della realtà visibile e non visibile è tutta creata, immaginata, e si perde la cognizione di ciò che appare. Non è l'essere in senso assoluto. E' l'essere nella vita incarnativa, quella che è la realtà apparente. Quindi questa follia è solo ascrivibile a un decadimento del corpo fisico. L'esperienza di chi vive questo decadimento, quella è particolare. Perché chi la vive in prima persona è qualcuno che ha bloccato le proprie percezioni che erano al di fuori dell'ordinario, in questa vita incarnativa e in altre vite incarnative. O ha perseguito chi aveva delle percezioni al di fuori dell'ordinario, in incontri che riguardano l'esoterico medianico o la capacità artistica di immaginare la creazione, in un sogno che si trasforma nella visione. Chi invece vive il ritorno dell'esperienza di qualcuno che vive questa determinata condizione, vive una grande sofferenza, per l'impossibilità di aiutare l'altro a discernere tra il mondo reale e quello non reale. La vera essenza però dell'incarnato che mischia qualunque realtà non è quella che appare. Lui sa esattamente qual è la realtà, quindi non devi pensare a cose che ti potrebbero danneggiare o in che modo. Tutto questo non ha nulla a che fare con la percezione dell'essere, ma posso immaginare che crei scompiglio, perché crea dolore avere qualcuno che manifesta una tale degenerazione. Ed è importante quello che stai chiedendo, perché essere vicino a chi vede ma non vede, ma immagina e non distingue più, può permettere di vedere che esistono altre possibilità. Voi siete abituati a vedere qualunque cosa sotto un'accezione negativa, ma non vedete l'accezione che invece non è negativa e la possibilità di accedere a tante possibilità che avete come se voi foste un'appendice microscopica infinita di ciò che siete e non riuscite a percepire tutto quello che siete. Quando varcate dei piccoli confini, allora vedete qualcos'altro. Un artista vede qualcos'altro per dipingere, per creare, per scolpire, per disegnare. Immaginate un artista, ha una visione che va al di là degli schemi, della percezione della realtà che lo circonda. Chi vive alla pagina vive le tante realtà che lo circondano contemporaneamente ed è incapace di distinguere ciò che è reale da ciò che non è reale, ma ha la possibilità di difendere quello che siete, che come sempre è più di quello che appare.